Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Vag Italy. Oggi siamo qui con una Golf 7.5, una Restyling 2018. Non è la solita GTI, GTD, insomma versione sportiva che trovate sul canale. Ci tenevo a fare questo video anche a questa macchina versione business, quindi molto base, con fari halogeni e senza telecamera, senza radar, proprio una versione base, perché molti hanno pensato, pensano, guardando il nostro canale, che solo sulle macchine fornite di tanti optional si possano fare le attivazioni, cosa sbagliata. La prima attivazione, quella più utile, quella che facciamo a tutti, è quella dell'allarme. E anche su un modello base si può tranquillamente attivare. Perché, sì, erroneamente si pensa che si tendano a fregare solo i Golf GTD, Golf GTD, Golf Costose, ma in realtà la radio e il cruscotto sono spesso elementi molto costosi che i ladri tendono a rubare. Ora, ho chiuso la macchina volutamente col frenesino abbassato per simulare il fatto che un ladro romperebbe chiaramente il vetro. Solitamente rompono questo vetrino qua, quello più piccolo, perché da meno nell'occhio. Infilano la mano e tirano la maniglia. Ora ve lo faccio vedere davanti, perché tanto è la stessa cosa. Se io, vedete, prendo la maniglia e la tiro, la macchina parte subito a suonare all'impazzata dal clacson. lampeggiano anche le frecce, non so se avete fatto caso, per cui a tutti gli effetti è come fosse l'allarme di serie, quello che avreste pagato, per intenderci, ben 350-400 euro. Andiamo un attimo in macchina. Cruscotto, questa è una business a metano, è quello con le lancette classico, quindi abbiamo, vedete, il disegnino della nostra auto con la porta aperta. Andiamo a chiudere. Giriamo la chiave. La prima cosa che si nota è, a parte il fatto che è necessario fare il rifornimento di metano, il cruscotto ha la grafica, che avete visto magari in qualche altro video, con i famosi dots, per cui la grafica del piccolo cruscottino centrale è stata abbellita con questa animazione e in più il colore del cruscottino è diventato rosso, esattamente come le lancette, molto più bello del classico blu, con tra l'altro quel brutto effetto nebbia posteriore. Ora, se andiamo sulla radio, intanto potete già vedere che abbiamo attivato inoltre il menu off-road, quindi è possibile sapere l'intensità, la temperatura dell'acqua, dell'olio e anche l'angolo di inclinazione della ruota, meno utile, ma l'olio e l'acqua sono molto utili. L'olio ora non lo vedete perché la macchina non è sufficientemente calda e si vede solo l'acqua. Andando poi nel menu qui, è anche possibile avere il menu, quello relativo ai consumi. Ve lo faccio vedere perché, in questo caso, essendo una macchina a metano, si penserebbe che non funzionasse. In realtà, come vedete, indica tranquillamente le inchili, perché il metano si paga a chili e quindi anche questa view qui, una volta accesa, mostra i consumi proprio anche su una macchina a metano, quindi non è solo una funzione che c'è, diciamo, sulle benzina o sui diesel. Andando poi nel menu della macchina, cosa abbiamo aggiunto di bello? Allora, in primis il menu personalizzazione dove si possono personalizzare i guidatori dell'auto. Questa è una funzione che c'è solo nelle auto, diciamo, con un determinato numero di opzioni, ma funziona tranquillamente, quindi si possono abbinare le due chiavi e due guidatori diversi e, inoltre, mettere anche il proprio nome. Nelle modalità, diciamo, di funzionamento del sensore ABS ho aggiunto la modalità, appunto, SC Sport, quindi non c'è solo il controllo trazione, ma si può anche inserire la modalità sportiva, classica delle Golf GT e GTD. Questa è un'altra cosa in più che non c'era. Nel menu delle luci abbiamo la possibilità di regolare l'accensione e lo spegnimento delle luci diurne, cosa non era possibile. Scorrendo poi i menu abbiamo anche il menu nuovo per le luci soffuse, dove è possibile cambiare il colore della radio, ma anche del cruscotto, perché questo piccolo cruscottino qua che vedete in mezzo, in realtà, come vedete, può cambiare colore. Nel mio caso, come vi dicevo all'inizio, l'ho messo blu, proprio perché, scusate, è rosso, perché poi è il colore che si abbina meglio con le lancette, ma nulla vieta poi di scegliere uno, come potete vedere, dei 30 colori disponibili. Quindi, il primo è proprio il rosso, ed è quello che, quando vi faccio vedere, si abbina meglio al discorso delle lancette, soprattutto di sera, è molto più bello. Tornando poi nella radio, essendo questa poi macchina non dotata di tanti optional, chiaramente abbiamo meno opzioni aggiuntive. Un'altra cosa molto, molto utile, nel menu apertura e chiusura, vedete via la conferma acustica della chiusura centralizzata, dopo ve la faccio vedere quando scendo, praticamente cliccando un paio di volte sul tasto chiusura, avremo un feedback acustico del claxon che ci permetterà, ci aiuterà, di trovare la macchina in un parcheggio, cosa molto utile, se magari parcheggiamo la macchina in un parcheggio dove non siamo mai stati e non ci ricordiamo più dove l'abbiamo messa. Molte volte, essendo il parcheggio pieno di macchine, non la si vede, perché le frecce, il lampeggio delle frecce viene coperto dalle altre macchine, ma il claxon, l'acustica, ci aiuta appunto a ritrovarla. Vedete appunto che anche tutto il layout della radio, appunto, ha preso il colore rosso, lo vedete bene, soprattutto nel menu off-road che è stato aggiunto, e tutti gli indicatori, questi qui prendono proprio il colore, quindi diventa molto più bellina la macchina. Ora vi faccio sentire anche il discorso dell'uscita, potete magari notare che le lancette, a differenza del classico tachimetro che avete magari tutti, rimangono accese, quindi fin tanto che il quadro rimane acceso, le lancette rimangono accese, si accenderanno anche di sera quando entriamo in macchina, quindi avremo un benvenuto con le stanghette delle lancette accese, molto più carino delle classiche lancette, diciamo, spente. Apriamo la macchina, andiamo fuori, vi faccio sentire anche la funzione comodissima che vi permette, come vi dicevo, con un singolo click, di chiudere la macchina che, come avete potuto sentire, non ha suonato. Quando agisco con il secondo click, sentite, il clacson mi dà la conferma di dove è la macchina, in questo modo, posso ritrovare la mia macchina nel parcheggio, quindi molto, 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 molto comodo. Bene ragazzi, vi saluto con questa Golf TGI a metano, molto base, ma ci tenevo a farvela vedere proprio perché tutte le attivazioni che proponiamo si possono tranquillamente fare anche su auto di questo tipo. Al prossimo video ragazzi, ciao a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao, ciao!